Il potere al popolo può essere una lista veramente alternativa? Certo, è alternativa perché sia nelle modalità di costruzione della lista, ma soprattutto nel programma e negli uomini e nelle donne che schiera, è alternativo sia al sistema di potere dominante, ma anche a tutti coloro che si presentano come opposizioni, ma che in realtà spulciando i programmi e spulciando soprattutto quello che stanno dichiarando in questi giorni, ossia che dopo le elezioni, quale che sarà il risultato, faranno una sorta di governo di unità nazionale, di grande coalizione, come usa chiamarsi adesso, credo che rispetto a questo scenario poter al popolo è veramente l'unica forza alternativa. Quali sono i punti principali del vostro programma? I punti principali del nostro programma variano un po' su tutto l'arco di quelle che noi definiamo le contraddizioni, sociali. Si parte quindi naturalmente dal primo punto che riguarda le condizioni di vita e di lavoro, quindi il tema del lavoro, della lotta alla disoccupazione, alla dilagante precarietà, al super sfruttamento, particolarmente qui al sud dove viviamo sia un processo storico di distruzione dell'industria, di posti di lavoro, ma viviamo anche un fenomeno particolarmente odioso che è quello del lavoro nero ma sano sottopagato. Su questi punti poter al popolo richiede la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario che significa apertamente fare nuove assunzioni, sbloccare le piante organiche, dare vita a quel lavoro utile e dignitoso per tutti che è un po' la chiave per combattere sia il degrado e soprattutto per far vivere meglio gli uomini e le donne. Naturalmente ci sono i temi ambientali, i temi del risanamento dei nostri territori che come è noto sono stati martoriati nei decenni alle nostre spalle. Il tema dei rifiuti tossici, il tema degli inceneritori, il tema dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua sono tutte questioni che a noi di potere al popolo stanno al cuore e contro le quali ci battiamo per rivendicare veramente delle bonifiche fatte bene, curate da scienziati, curati da uomini che si ringrazi di garantire la qualità del lavoro e non invece da parte magari di quelle stesse ditte, di quelle stesse multinazionali che prima hanno inquinate e poi si candidano a disinquinare. Questo a noi non sta bene e soprattutto noi chiediamo che paghi chi ha inquinato, cioè le grandi imprese, le grandi multinazionali devono accollarsi il costo delle bonifiche perché da solo le amministrazioni locali, le regioni non ce la fanno. È un risarcimento che ai cittadini napoletani spettano, ai cittadini della campagna spettano perché questa è una terra martoriata da tumori, da malattie oncologiche che sono il frutto di questo tipo di inquinamento. Oggi un incontro con Melanchon, che esito ha avuto? Un incontro con Melanchon è positivo perché dimostra che il potere al popolo non si chiude nell'ambito del territorio italiano ma guarda all'Europa perché dall'Europa, o meglio dall'Unione Europea, perché noi non siamo contro l'Europa noi siamo contro quest'Unione Europea che è un'Unione Europea che obbedisce agli ordini della BCE, della Banca Centrale Europea o obbedisce agli ordini delle grandi multinazionali che anche nel nostro paese saccheggiano i nostri territori comprano i marchi, prima li fanno fallire poi con i marchi in questi giorni proprio il treno Italo, la catena Italo delle ferrovie è stata sussunta da una multinazionale americana, Unione Europea impone attraverso lo strumento di trattati delle politiche che noi definiamo apertamente di austerità e di macelleria sociale che penalizzano le condizioni dei lavori, penalizzano le condizioni delle amministrazioni locali sono politiche di guerra perché non dimentichiamo che l'Unione Europea proprio in questi giorni attraverso l'accordo franco-italiano hanno convinto al governo italiano di partecipare in Niger con una nuova spedizione militare, quindi con una spedizione che costa decine, centinaia e milioni di euro che sono distolte dalle spese sociali e traghettate a quelle militari quindi l'incontro con Melanchon serve ad aprire o dire il popolo alla prospettiva della lotta all'Unione Europea e soprattutto della lotta contro la Nato, contro gli strumenti di morte che sul piano internazionale vengono imposti al nostro Paese e che noi anche attraverso il voto per potere al popolo al 4 marzo dobbiamo riuscire a ribaltare.